Buonasera gentili telespettatori ben ritrovati con lo speciale Tg Umbria stasera parliamo di radio o parliamo di radio amatori e lo facciamo con il presidente della sezione perugina dell'Associazione Radio Amatori Italiani e Lari Francesco Fucelli ben trovato e buonasera. Buonasera a te. È un il fascino della radio diciamo è un po' in tutti noi anche se mi viene da pensare che comunque la società evolve la tecnologia evolve e ci sono tantissime cose nuove rispetto magari a qualche decennio fa ma ecco intanto partirei da qui che cosa che cosa fate come radio amatori oggi nel 2024 nel 2024 ma nel 2024 io inizierei con il dire che la radio è ancora al centro di tutto perché anche il cellulare che noi utilizziamo di fatto è una radio quindi tutto viaggia sulle onde radio anche il wifi di casa è una radio certo quindi in particolare noi siamo appassionati di radio e di tutto quello che gira intorno ma non è solamente limitato al fatto che uno potrebbe pensare la radio paragonata a quello che era il CB il baracchino degli anni 80 che ho utilizzato pure io insomma non è che era la chat 1.0 quella no oggi la radio e il radio amatore diciamo ha un gradino più avanti perché il radio amatore è un appassionato di tecnica di tecnologia sempre diciamo all'avanguardia quindi il radio amatore segue quello che è la fisica l'elettronica la meccanica l'astronomia l'informatica quindi è una passione multisfaccettatore noi abbiamo dei ragazzi che si sono avvicinati a noi perché appassionati di informatica quindi volevano un pochino capire come fare a trasmettere tipo il wifi no quindi i dati via radio e ad oggi si sono appassionati a tutte altre cose perché è naturale che poi la cosa nasce cosa e mi viene da dire adesso nella parola appunto amatori radio amatori c'è credo insomma possiate considerarvi un po' gli eredi di Marconi nel senso che comunque precisiamo che è una passione che fate ecco senza scopo di lucro cioè è veramente una passione come fu per l'inventore assolutamente sì poi la differenza che per lui è diventata anche una professione per noi diciamo è un costo quindi non c'è assolutamente lucro dietro quello che è la nostra attività e la nostra passione e siamo ci amiamo definire gli eredi di Guglielmo Marconi Guglielmo Marconi che è stato anche presidente onorario della nostra associazione che a Perugia esiste dal 1946 ma in Italia c'era dagli anni 20 diciamo che siamo oltre più di un secolo di vita insomma molto più di un secolo di vita però dicevamo ancora tanto attuale perché perché così e come si è evoluta diciamo comunque anche questa vostra passione in parte l'ho accennato insomma con il discorso di prima però il mondo della radio è un mondo del radio amatore è un mondo diciamo multidisciplinare quindi cioè non è come il classico hobby dove uno si concentra su una semplice cosa quindi per fare il radio amatore fatto bene deve avere la passione per l'elettronica per progettare le antenne per costruirtele vero è che oggi tutto si compra però costruirselo progettarselo da solo ha un altro fascino e anche diciamo conoscenze di fisica di radioastronomia di mille sfaccettature non ultimo conoscenze di lingue perché i radio amatori sono in tutto il mondo questo ne parlavamo anche prima a microfoni spenti infatti volevo arrivare anche qui perché diciamo è veramente un hobby una passione che più globale forse non esiste anche perché poi ne parleremo arriviamo anche oltre il pianeta terra no? e quindi il discorso è come si comunica? la mia prima domanda insomma è stata un po' questa come si comunica nel senso immaginavo ci fosse una lingua comune universale però è anche vero che allora come comunichiamo? allora non parliamo del mezzo perché chiaramente noi comunichiamo via radio quindi dal semplice palmarino che utilizziamo per fare collegamenti a breve distanza e che costa pochi euro ma questo costa veramente poche decine di euro però è richiesto la patente dal radio amatore per poterlo utilizzare però cioè come il mezzo che usiamo per comunicare noi comunichiamo infonia infonia significa parliamo quindi con il microfono parliamo con il nostro corrispondente e parliamo in inglese perché l'inglese è la lingua che più o meno tutti riescono a capire parliamo è una bella scuola comunque quindi a questo punto perché tutto sommato si può riuscire a quantomeno a esercitarsi io personalmente ho imparato l'inglese parlando in radio perché a scuola ho studiato francese quindi cioè è anche molto utile anche per i ragazzi per i giovani è molto stimolante riuscire anche semplicemente ad ascoltare i radiomatori che parlano tra di loro comunichiamo in codice morse il vecchio codice morse è sempre attuale è sempre il sistema più efficace perché mentre per comunicare infonia quindi diciamo voce c'è la necessità di riuscire a distinguere la voce in mezzo al rumore chiaramente in codice morse dobbiamo solamente distinguere se il segno c'è o non c'è quindi diciamo la soglia di percezione è molto più alta rispetto alla voce e poi recentemente comunichiamo anche in maniera massiccia con i modi digitali i modi digitali non sono altro che diciamo dei software che girano sul nostro computer interfacciato alla radio quindi diciamo di fatto facciamo parlare il nostro computer con altri computer nel mondo utilizzando la radio questo è un ottimo sistema molto diciamo osserva dire inclusivo perché avvicina anche ai disabili avvicina ai disabili assolutamente perché una persona che ha problemi di udito chiaramente ha difficoltà a fare dei collegamenti infonia piuttosto che in telegrafia perché potrebbe avere o proprio non sentirli oppure avere problemi e qui invece se lo legge il diciamo il messaggio e soprattutto abbatto il problema della lingua una cosa che mi chiedevo questi modi digitali diciamo così massicci sono usciti da pochi anni prima utilizzavamo quei modi digitali che tuttora utilizziamo per esempio questa sera abbiamo un'esercitazione in prefettura poi ne parliamo dopo dove utilizzeremo un vecchio modo digitale che era telescrivente quindi noi abbiamo la tastiera collegata alla radio dove digitiamo e i corrispondenti leggono il messaggio il fonogramma che inviamo oggi invece ci sono dei software che riescono a gestire meglio queste comunicazioni e abbattono anche la barriera linguistica quindi io ai primi tempi mi chiedevo ma come mai tutti questi giapponesi non li sento infonia non li sento in telegrafia ma mi ritrovo con i modi digitali poi dopo parlando con un amico giapponese ha detto guarda in realtà in Giappone la maggior parte della popolazione non conosce l'inglese quindi avrebbe difficoltà nel parlare con infonia e quindi un bel sistema anche questo per integrare allora andiamo che abbiamo già dato un po' un'infarinatura generale ma nel pratico intendo che cosa fate per esempio anche a livello locale come radioamatori di Perugia a livello locale abbiamo una bella realtà siamo come radioamatori dell'associazione radioamatori italiani che è l'associazione di riferimento sul territorio nazionale quella che è la storia più lunga perché come dicevo prima esistono i tempi di Marconi in Umbria siamo circa 300 radioamatori che fanno parte dell'associazione radioamatori italiani e siamo ogni anno in crescita a Perugia in particolare siamo oltre 100 ad oggi come facciamo a crescere? in un periodo in cui tutti noi per primi utilizziamo il cellulare utilizziamo le chat cresciamo perché innanzitutto per diventare radioamatore come dicevo prima c'è da superare un esame e prendere una patente quindi non è voglio diventare radioamatore domani lo faccio no fai un corso ne stiamo organizzando uno proprio ora questo corso ti prepara per poter affrontare l'esame ministeriale e l'esame è un esame che parte dalla fisica l'elettronica fino a una parte normativa perché il radioamatore come dicevo prima deve avere una conoscenza globale di tutto quello che fa e deve rispettare delle regole assolutamente e la patente della radioamatore un termine che usa un mio collega di Milano che mi è piaciuto moltissimo è la patente più potente che c'è al mondo perché la patente per l'auto non ti consente di costruirti la tua macchina la patente della radioamatore ti consente di costruire e utilizzare la tua radio quindi c'è da degli stimoli molto importanti molto profondi su tutto quello che c'è da fare e all'atto pratico dice cosa facciamo facciamo attività che vanno dalla progettazione delle antenne e costruzione quindi noi con un semplice pezzo di filo una canna da pesca riusciamo a fare collegamenti con qualunque parte del mondo recentemente c'è una radiomatrice italiana la nostra amica che è stata tre settimane all'isola di Sant'Elena noi abbiamo costruito per lei qua Perugia un'antenna che non è l'altro che una canna da pesca alta 10 metri con dei fili di una certa calcolata misura posti lungo la canna con questa antenna in 18 giorni ha collegato oltre 47.000 stazioni dall'isola di Sant'Elena quando statisticamente proprio da dati alla mano in tutti i radiomatori che hanno girato sull'isola negli ultimi anni messi insieme non facevano più di 20-25.000 collegamenti l'anno quindi una cosa una cosa modesta quindi uno riesce a fare anche cose importanti no e poi quello che è importante cioè è il fare gruppo da aiutarsi l'un con l'altro a crescere in maniera diciamo costruttiva allora c'è appunto la parte mi viene di chiamarla ludica anche se poi ludica non è poi c'è però anche tutta una parte pratica e fondamentale anche per per gestire situazioni difficili e quindi la vostra collaborazione con le istituzioni come nasce come si sviluppa mi riferisco chiaramente in particolare ai casi di emergenza certamente allora il radioamatore di fatto è quello che è la voce dei soccorsi nell'emergenza quando c'è un'emergenza nelle prime 24-48 ore è il momento più critico per le radiocomunicazioni perché andiamo al caso di un terremoto nel caso di un terremoto viene tolta l'energia elettrica chiaramente nel togliere l'energia elettrica crollano le radiocomunicazioni perché sì c'è la telefonia cellulare verissimo ma abbiamo visto tutti con i terremoti che sono capitati anche nelle nostre zone che c'è un intasamento delle linee e di fatto potrebbero non essere utilizzabili dai soccorsi è vero che i soccorsi hanno i loro ponti ripetitori però gestiscono diciamo delle situazioni limitate a certe zone in certi modi non hai detto che abbiano una conoscenza anche del territorio in cui vanno ad operare diciamo e magari non abbiano la competenza per poter risolvere certe problematiche al momento cioè uno non può pretendere che l'operatore d'emergenza sia in grado se dovesse avere un problema all'antenna che sia in grado di risolvere ripararla o costruirne una nuova per esempio in tempi il radiomatore magari questo lo fa quindi è in grado se c'è un problema con un semplice pezzo di filo di poter costruire un'antenna d'emergenza e gestire l'emergenza chiaramente anche noi abbiamo bisogno di essere allenati e formati perché nessuno nasce imparato e esercitato quindi periodicamente organizziamo delle prove di copertura prove di sintonia a livello locale a livello nazionale per esempio questa sera ne abbiamo proprio una in prefettura dove si metteranno in collegamento le prefetture circa 40 prefetture diciamo sparse sul territorio italiano il dipartimento di protezione civile a Roma e una nave della marina militare in navigazione nel mondo non sappiamo dove sia la nave normalmente sta nel Mediterraneo e lì praticamente noi andiamo a verificare noi in particolare l'efficienza della stazione radio della prefettura di Perugia che gestiamo come associazione degli amatori italiani dal 1985 quindi in tutta Italia le stazioni radio e le prefetture sono gestite dalla nostra associazione e quindi già lì uno fa una verifica per controllare se va se non va e poi si formano gli operatori perché non è detto che l'operatore sia in grado di tirar fuori i segnali in mezzo ai disturbi scariche c'è il temporale scariche di fulmini eccetera no basta ricordare quando c'erano le vecchie radio in AM ormai c'è l'FM c'è il DAV quindi quando c'erano le radio in AM che c'era sempre la scarica e lì è la normalità quindi c'è questo allenamento e un altro modo che abbiamo per allenarci come dicevi prima ludico è un gioco noi diciamo mediamente tutte le settimane ne abbiamo uno facciamo dei contest delle gare come funzionano 24 48 ore piuttosto che poche ore con cui colleghiamo il maggior numero possibile di altri radioamatori nel mondo o sul territorio diciamo con la nostra radio quindi questo allena per poter e vince chiaramente chi riesce a fare più collegamenti con più realtà ne abbiamo uno che facciamo tutti gli anni a dicembre è il contest 40-80 perché 40-80 sono le bande di frequenza utilizzate dalle prefetture in caso di emergenza e questo contest nacque proprio negli anni 60 subito dopo l'alluvione del Polesine per formare i radioamatori per migliorare l'operatività e lì lo scopo è collegare tutte le province italiane quindi noi lo utilizziamo dato che gli esami per diventare radioamatore normalmente sono in autunno a dicembre verosimilmente abbiamo i nuovi radioamatori quindi facciamo il battesimo dell'aria li mettiamo lì in radio vicino a quegli esperti nel collegare tutte le province italiane quindi li vedi che c'è la carica di adrenalina quando si colora la mappa delle province di giallo con i collegamenti quest'anno abbiamo avuto una bella esperienza perché avevamo dei ragazzi giovani da 17-23 anni che hanno operato più anche diciamo dei nuovi radioamatori non proprio giovani ma che hanno appena preso la patente e hanno fatto in 17 ore che siamo stati oltre 600 collegamenti in tutta Italia quindi insomma bella carica come attività come allenamento ma non solo torno un attimo indietro poi per parlare proprio della sua passione come è nata per lei ecco dico nel concreto per questa attività diciamo da una parte abbiamo detto globale mondiale anche oltre però è anche abbastanza diciamo singolare no comunque sia sì la mia passione è nata per sbaglio perché da ragazzino avevo la passione per l'informatica e per l'elettronica però non per la radio anzi avevo un vicino radiomatore e all'epoca diciamo era facile disturbare le tv piuttosto che diciamo le radio perché non era lui che disturbava perché normalmente non è il radiomatore che disturba ma sono le apparecchiature che ricevono i disturbi involontariamente diciamo esempio molto banale molte volte noi troviamo i cavi quando compriamo qualcosa il cavo con la ferrite quella diciamo il cilindro che andrebbe messo sui cavi molte volte uno nemmeno ce lo mette lo butta via ecco quello è un antidisturbo serve per eliminare certi disturbi e io avevo questo vicino che mi rientrava sulla televisione quindi non avevo molta simpatia poi un giorno mi capitò un amico che aveva il baracchino il cb chiedendomi di saldare il filo del microfono che io l'ho saldato poi lo proviamo e dall'altra parte ha risposto un altro amico mio non sapevo cioè il giorno dopo ho comprato il baracchino ho cominciato con la cb poi dopo da lì ho capito che c'era un mondo quello dei radiomatori che era molto più ampio e allora mi sono fatto forza ho fatto il corso ho preso diciamo la patente all'epoca c'era la patente speciale quindi era quello che oggi è l'esame che si fa all'epoca dava una patente limitata sulla certe frequenze perché per prendere la patente da radiomatore vero quello che si prende oggi con quell'esame c'era da sostenere un esame di codice morse trasmesso e ricevuto e insomma non è stato semplice poi dopo qualche anno ce l'ho fatta lì oggi vado tranquillamente bisogna studiare parecchio sì fortunatamente chi fa l'esame oggi non ha più lo scoglio del codice morse la soddisfazione è che due anni fa quell'amico che mi portò il microfono da saldare ha preso la patente pure lui è uno dei nostri radiomatori quindi è tornato si è chiuso un po' si è chiuso il cerchio e mi diceva anche prima che appunto e l'abbiamo accennato abbiamo parlato di Sant'Elena ma anche Africa insomma un po' di tutti i continenti ma c'è anche lo spazio ci sono anche gli astronauti assolutamente sì ci sono gli astronauti che sono quasi tutti tutti i radiomatori per esempio Samantha Cristoforetti Paolo Nespoli in un ultimo il colonnello Villadei cioè tutti i radiomatori tra l'altro quindi ci si può comunicare anche quando sono sullo spazio semplicemente questa radiolina qua si riesce a parlare con la stazione spaziale quando passa con l'orbita sopra di noi il problema qual è? la loro disponibilità a comunicare perché sono talmente impegnati che raramente diciamo riescono a comunicare con noi però c'è un programma ARISS che praticamente è gestito dalla NASA e la lente spaziale europea dove le scuole tramite i radiomatori possono mettere in contatto gli alunni con gli astronauti sarebbe interessante fare una diciamo un progetto del genere anche qua sul territorio noi abbiamo tra i nostri radiomatori anche dei professori che sono in grado di preparare il progetto bisogna trovare poi però l'istituto interessato a presentare la domanda domanda che va presentata dall'ente spaziale che la prova poi una volta tempi lunghi chiaramente perché la presento oggi parliamo di fare il collegamento in seconda metà l'Ulvina 25 quindi sono tempi programmati però molto affascinante perché in quei dieci minuti mediamente che passa la stazione spaziale sopra l'Italia i ragazzi hanno la possibilità di fare loro direttamente delle domande agli astronauti e riceverne una risposta quindi un'attività estremamente affascinante poi ogni tanto diciamo abbastanza spesso ci fanno qualche regalino perché ci mandano giù quando passano ci mandano delle immagini dallo spazio quindi lasciano diciamo la loro stazione attiva e sempre con una radio banale e un software collegato al computer riusciamo a decodificare e a vedere delle immagini che mandano gli astronauti a terra quindi anche questo molto affascinante assolutamente tornando brevemente al locale dallo spazio ritorniamo a Perugia perché mi assennava che comunque nel discorso anche di aggiornamento che fate e che è necessario anche per per prevenire un po' quello che può accadere di recente avete comunque lavorato proprio sulla su una sorta di mappatura sì sì noi lavoriamo a stretto contatto oltre che con la prefettura lavoriamo a stretto contatto con la regione Umbria e con diversi comuni in particolare con i comuni di Perugia perché siamo in casa certo e periodicamente facciamo delle mappature del territorio sia diciamo a livello locale ne abbiamo fatto una a giugno 2023 dove abbiamo mappato il territorio del comune di Perugia mettendo una postazione diciamo un COC centro operativo nella zona di Pianimassiano dove poi in realtà in caso di emergenza c'è il centro operativo del comune e poi abbiamo dislocato nove postazioni di radioamatori che avevano questa radio che diciamo questa nel senso una radio portatica quella che usa nell'emergenza ma anche radio veicolare quindi sulla macchina su tutto il territorio comunale e abbiamo fatto le prove di radiocomunicazione per verificare la possibilità di collegamenti diretti con diciamo il centro di comando e abbiamo rilevato alcune zone dove questo non è possibile non è possibile se non tramite dei ponti noi abbiamo dei nostri ponti ripetitori che coprono diciamo tutta l'area della regione però ci possono essere delle zone dove anche il ponte ripetitore non arriva quindi in quel caso basta sapere prima non al momento dell'emergenza dove mandare uno dei nostri con l'attrezzatura per fare la ponte e riuscire a gestire l'emergenza e questa cosa periodicamente può consentire appunto di magari di non trovarsi impreparati assolutamente nel momento in cui c'è bisogno è fondamentale e poi l'altra cosa importante è anche quando succede e succede quando facciamo queste prove che c'è un problema tecnico trovare la soluzione quindi può capitare che magari una delle ripostazioni abbia dei problemi all'antenna e quindi magari non riesca a ricevere bene e allora in quel caso ci mettiamo lì all'opera normalmente sono sempre due o tre persone per postazione quindi a fare le prove per cercare la soluzione cosa fondamentale in caso di emergenza quali sono i prossimi appuntamenti che avete sia per avvicinare magari le persone a questa passione ma anche cose operative il primo appuntamento che è in corso è proprio il corso per diventare radioamatori quindi stiamo proprio facendo girare in questi giorni sui social network il link per poter partecipare per potersi iscrivere al corso corso che come dicevo prima è aperto a tutti perché fondamentalmente non serve il titolo di studio può servire per eliminare una parte d'esame perché per esempio l'ingegnere elettronico piuttosto che il perito elettrotecnico telecomunicazioni chiaramente si dà per scontato che conosca la parte abbia le competenze e quindi sosterrà l'esame ministeriale solamente per la parte normativa perché conosce magari la parte tecnica ma non quella normativa e chi invece non ha diciamo l'esonero dovrà farsi il corso dall'inizio quindi partire proprio dalla fisica dei conduttori degli isolanti e quant'altro fino ad arrivare alla parte diciamo normativa però è fatto in maniera facile e semplice abbiamo dei docenti molto competenti che vengono proprio dal mondo della scuola e ultimamente abbiamo un tasso di promossi prossimo al 100% quindi segno che ce la mettiamo tutta e l'età media? ma l'età media si sta abbassando molto perché fino a qualche anno fa io ero uno dei più giovani e questo è preoccupante perché ho più di 50 anni oggi abbiamo un bel gruppo di ragazzi abbiamo da una ragazzina di 17 anni fino io parlo degli anni del 25 fino al ragazzo di 23 ma sono in 5 già sul corso che stiamo pubblicizzando ne abbiamo altri 4-5 in questa fascia d'età che diciamo si stanno iscrivendo perché? perché anche i giovani percepiscono questo modo diverso di comunicare cioè il fascino se io facessi vedere ad esempio ho un nipote che ha 14 anni che cercherò di avvicinarlo a questo mondo se io gli facessi vedere il video di quando ricevo la stazione spaziale sono convinto che sì dove resta lì ma se gli dessi in mano la radio e lo sente lui direttamente è un altro mondo si apre un altro fascino quindi adesso faremo anche diciamo delle presentazioni in determinate scuole per farci conoscere per far conoscere questo mondo direttamente ai ragazzi e poi abbiamo delle manifestazioni in corso ne avremo una notizia di queste ultime ore ne avremo una molto importante a Perugia il 18-19 maggio avremo di fatto il punto di incontro dei radioamatori italiani perché ci sarà oltre ad esserci l'assemblea nazionale della nostra associazione avremo due convegni molto importanti dove si ritroveranno i radioamatori di tutta Italia in particolare del centro Italia poi faremo a giugno il primo weekend di giugno organizzeremo una nuova prova di copertura come dicevo prima con un contest perché ci abbiniamo sempre il divertimento e quello in particolare in codice morse ad agosto ne faremo un altro ormai è diventato una tradizione il primo weekend agosto noi siamo sempre all'eremo del Serra Santa a Gualdo Talino dove montiamo delle antenne abbastanza importanti e da dove facciamo collegamenti con praticamente mezza Europa e poi dopo l'altro appuntamento è il primo weekend di settembre a cui non manchiamo che per noi ormai anche il posto è sempre quello che è il Colle della Trinità dove faremo sì 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 dove faremo sempre un'esercitazione e dove anche lì si faranno collegamenti radio con tutto il mondo 24 ore con generatori gruppi quindi poi in vero regime d'emergenza il tempo a nostra disposizione è terminato però possiamo concludere dicendo che anche se siamo nel 2024 e possiamo guardare anche oltre nonostante gli smartphone nonostante tutto la radio è sempre attuale e i radioamatori ci saranno sempre ci saranno sempre sempre attuali è sempre indispensabile grazie davvero Francesco Fucelli per essere stato con noi grazie a voi per l'opportunità e grazie a voi gentili telespettatori se lo volete lo speciale TG torna la prossima settimana buona serata